CLEOS consente di creare nuove pratiche in diversi modi. È possibile creare nuove pratiche cliccando sul pulsante più nel widget dei fascicoli recenti o dal tasto nuovo nel modulo fascicoli. Gli unici campi obbligatori sono il tipo e il nome della pratica. Posizione archivio e data di creazione verranno autocompilati. Per creare una pratica in pochi istanti scrivere il nome della pratica. E cliccare su crea fascicolo. Questa modalità consente di creare rapidamente la pratica e di popolarla in seguito con i documenti e tutte le informazioni necessarie. Benché gli unici campi obbligatori siano il tipo e il nome della pratica, si suggerisce vivamente di includere le informazioni sulle parti e i dettagli operativi della pratica. Dopo aver inserito le credenziali, cliccare su accesso. Al primo collegamento verrà richiesto se configurare autenticazione a doppio fattore per il proprio HMI. È necessario scaricare un'app di autenticazione a doppio fattore come Microsoft Authenticator o Google Authenticator. Poi è necessario scannezzare il codice QR o inserire il codice in rosso mostrati a video sull'app sul proprio smartphone. Una volta scannerizzato il codice QR o inserito il codice, l'app di autenticazione a doppio fattore genererà in automatico un passcode unico che si rigenererà ogni 30 secondi. Sarà necessario da questo momento in poi inserire il passcode ad ogni accesso, recuperandolo in app. A seguito della prima configurazione, sarà possibile scaricare le chiavi di backup da utilizzare in caso il passcode non sia più recuperabile in app. La configurazione di default di CLEOS comprende i tipi di parti più frequenti. È possibile aggiungere altre tipologie attraverso la schermata di configurazione. Le anagrafiche andrebbero registrate nel database di CLEOS per essere utilizzate come tipi di parti, ma è possibile registrare una nuova anagrafica direttamente in fase di inserimento del soggetto nella pratica, utilizzando il tasto Nuova persona. Selezionare il ruolo processuale e cliccare su Crea parte. In configurazioni studio, nella scheda Fascicoli, nella sezione Tipi, è possibile gestire i tipi esistenti e crearne di nuovi. La configurazione dei tipi di pratica è di solito uno dei passaggi più importanti nella configurazione dello studio. La configurazione preimpostata di CLEOS contiene le tipologie di pratica più frequenti. Quasi tutti gli studi hanno la necessità di definire un nuovo elenco di tipologie di pratica più adatto alla specializzazione dello studio. Il tasto Nuovo tipo fascicolo consente di definire un nuovo tipo di pratica. È possibile definire schede aggiuntive specifiche per ciascun tipo di pratica. Le schede aggiuntive per i tipi di pratica non valgono sulle schede aggiuntive generiche. Questa è infatti una definizione di schede aggiuntive complementari. Se sono già state definite schede aggiuntive per le pratiche e schede aggiuntive per un tipo di pratica, la finestra della pratica mostrerà entrambi i gruppi di schede aggiuntive. I campi aggiuntivi si utilizzano per estendere e personalizzare le informazioni contenute nel database di CLEOS. CLEOS gestisce le informazioni contenute nei campi aggiuntivi nello stesso modo delle informazioni inserite nei campi predefiniti. Per esempio, le opzioni di ricerca avanzata consentono di definire criteri di ricerca che includono i campi aggiuntivi. CLEOS permette di definire i campi aggiuntivi per le pratiche. Sono definiti nella sezione Schede aggiuntive della scheda Fascicoli, in configurazioni studio. Tutti i campi aggiuntivi definiti per le pratiche saranno disponibili per tutte le pratiche. Il menu consente di definire nuovi gruppi e campi. L'elenco di gruppi e campi viene mostrato sulla sinistra. La parte destra della finestra invece visualizza le caratteristiche del campo selezionato. Tutti i campi aggiuntivi andrebbero inclusi in un gruppo. Cliccare su Inserisci gruppo e definire il nome del gruppo. I gruppi di campi aggiuntivi sono solo uno dei modi per aggregare i campi, con l'obiettivo di visualizzarli in modo organizzato nella finestra di CLEOS. Non è possibile definire i campi aggiuntivi almeno finché non sia stato creato e salvato un gruppo. Si raccomanda vivamente di seguire un approccio sistematico nella definizione dei campi aggiuntivi. Si raccomanda di utilizzare un nome descrittivo. Cliccare sui tre puntini in corrispondenza del gruppo in cui inserire il campo. Scegliere la natura del campo. Si raccomanda vivamente di utilizzare un'etichetta descrittiva che richiami il più possibile il nome del campo aggiuntivo. Al termine, cliccare su Salva. La posizione relativa dei campi aggiuntivi sulla schermata può essere modificata usando le frecce. È possibile aggiungere, modificare o cancellare la configurazione di campi aggiuntivi in qualsiasi momento. Cancellare un campo aggiuntivo implica cancellare tutti i dati in esso contenuti. Spostare un campo aggiuntivo da un'entità di dati di CLEOS a un'altra significa che il campo aggiuntivo deve essere duplicato e che tutte le informazioni che esso contiene dovranno essere reinserite manualmente nel nuovo campo prima della cancellazione di quello originale. Per poter procedere all'utilizzo del modulo Parcellazione è necessario creare un'entità fiscale associata al relativo membro di studio ed un'area contabile associata all'entità. Per creare l'entità fiscale è necessario aprire la sezione Soggetti fiscali nella scheda Parcellazione, in Configurazioni studio. Poi cliccare su Nuovo soggetto fiscale. Ricercare o creare il soggetto da associare all'entità e cliccare su Nuovo soggetto fiscale. Il tasto Modifica fascicolo nella scheda generale della pratica permette di modificare le informazioni di base della pratica. Accanto a Modifica fascicolo, cliccando sui tre puntini, è possibile trovare altre funzioni. Collega il fascicolo permette di collegare una nuova pratica o una pratica già esistente a quella in lavorazione. Se si crea una nuova pratica, Cleos assegna un nuovo codice di pratica ma mantiene il riferimento alla pratica originale. Eredita solo il codice di riferimento della pratica originale. Tutte le altre informazioni, come parti, documenti, scadenze, dovranno essere inserite di nuovo. Le pratiche collegate si possono utilizzare in molte situazioni diverse. Per esempio, si possono usare per soddividere pratiche complesse che contengono molti documenti in pratiche più piccole e gestire le cause e gli appelli come cause separate o ancora per gestire cause diverse ma collegate per uno stesso cliente. Cliccando su Fascicolo esistente è poi possibile selezionare la pratica da collegare. Cliccando sul tasto Fascicoli collegati è possibile visualizzare l'elenco delle pratiche collegate. Il tasto Scollega dal fascicolo permette di scollegare una pratica da quelle a cui è già collegata. La funzione Duplica consente di creare una nuova pratica come duplicato di quella selezionata. Tutte le informazioni e i contenuti della pratica originale vengono duplicati nella nuova pratica. Archivia permette di aggiornare lo stato della pratica ad Archiviata. Si raccomanda di salvare come archiviate tutte le pratiche completate e di tenere solo le pratiche attive come aperte. La funzione Riapri riporta lo stato di una pratica archiviata a Riaperta. La funzione Autorizzazione apre una finestra di dialogo per gestire i diritti di accesso alla pratica selezionata. La funzione CLEOS CONT Opzioni di condivisione consente di condividere documenti con le parti esterne delle pratiche direttamente da CLEOS, eliminando il rischio relativo allo scambio di documenti riservati tramite e-mail. La funzione Elimina elimina in modo permanente una pratica e tutte le informazioni che contiene. CLEOS consente di lavorare contemporaneamente con più pratiche. È possibile aprire una pratica e tramite l'uso delle schede nel browser ti consente di avere più fascicoli o istanze CLEOS aperti contemporaneamente e di passare facilmente da uno all'altro. Anche nel modulo generale delle pratiche, passando il mouse su un elemento, viene visualizzato il menu tre punti. Cliccando è possibile visualizzare le azioni disponibili. È possibile aprire lo stesso menu cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto di quella riga, tranne che sugli elementi in blu. È possibile selezionare il numero di elementi da visualizzare su una pagina e navigare tra le pagine disponibili. L'icona a forma di ingranaggio consente di selezionare e ordinare le colonne. È possibile disattivare o riattivare una colonna per visualizzare o nasconderla. Il simbolo di trascinamento permette di modificare l'ordine delle colonne. È possibile resettare le modifiche effettuate cliccando su Ripristina visualizzazione iniziale. È possibile anche modificare la larghezza delle colonne trascinandone l'estremità. L'opzione Vista avanzata offre opzioni di filtraggio, raggruppamento e stampa. Nel modulo generale delle pratiche è possibile ricercare tramite barra di ricerca rapida digitando riferimento, nome, descrizione o cliente. La X permette di cancellare il filtro. La Vista Tutti include i fascicoli archiviati. Aperti include solo i fascicoli attivi. Accanto alla barra di ricerca, il tasto Ricerca avanzata consente di creare ed eseguire ricerche avanzate. La ricerca avanzata può essere trovata in diverse aree come fascicoli, documenti o parcellazione. Ad esempio, se abbiamo necessità di visualizzare la pratica amministrativa in cui Mario Rossi è l'avvocato affidatario, clicchiamo su Inserisci filtro e scegliamo Colleghi studio. Cerchiamo il nome del collega dello studio e il suo ruolo. Dopodiché, per vedere solo le pratiche amministrative, aggiungiamo un altro filtro. Clicchiamo su Generali e scegliamo Tipo fascicolo. Impostati tutti i filtri, clicchiamo su Esegui. I risultati appariranno in elenco. I filtri inseriti sono elencati di seguito. Per cancellare la ricerca è necessario cliccare su Pulisci tutto. E' utile salvare le ricerche se vengono utilizzate frequentemente. Per farlo, è necessario cliccare su Salva come dopo aver aggiunto i filtri. Dare un nome alla ricerca e cliccare su Salva. Se la ricerca viene salvata come ricerca personale, sarà visibile solo all'utente che la sta creando. Come ricerca di studio, sarà invece visibile a tutti i colleghi dello studio. Per avviare una ricerca salvata, occorre cliccare nuovamente sull'icona Ricerca avanzata. Cliccare su Ricerche salvate. E poi sul nome della ricerca per avviarla. In corrispondenza della ricerca salvata, è possibile utilizzare i tasti Funzione per modificarle o eliminarle.